bene ragazzi bentornati da vostro rick gamer 870 oggi siamo su turbo dismount un gioco che ha fatto molto successo negli ultimi anni oggi lo andremo a fare troppo dismount sarebbe questo gioco sarebbe allora ora ve lo faccio vedere tipo guardiamo un livello questo livello qua si chiama chicken si chicken va bene funziona che te sei questo omino ora tipo ho avuto la fortuna che come vedete si può schiantare con gli altri e se guardate a destra si vedono tutte le cose che succedono tipo se si fa male o non si fa male cosa succede alla macchina se guardate potete mettere anche massima velocità non potete ritornare indietro potete farlo andare lentissimo vedete potete andare lentissimo si vede una roba fighissima guardate poi potete risettare di far tutto ci sono molti tipi di veicoli come vedete poi vabbè a parte questi qua che sono a pagamento credo che sia il caso di comprarli tipo proviamo l'aereo lsi un jet cosa l'aereo ok non si possono mettere gli ostacoli cambiamo livello per non si possono mettere gli ostacoli facciamo storm adrenalina vedete tutto uguale solo che ok ciao così questo qua è quello per dare più velocità che bruttaia poverino l'aeroplano fate una preghiera per questo povero aeroplano vabbè e questo è come big al campo sarebbe mio preferito e guardate dovete fare il massimo di punti vedete fino a 200 io un giorno ce l'ho fatta anche 3 milioni di punti se vedete e infatti come vedete si è spaccato la testa e gli si è anche staccata una gamba che brutta roba poverino se provassimo a fare una cosa io provo e poi non so com'è che poi qua succederà sicuramente un casino bene guarda ok culo va in massima velocità oddio no che sfortuna si è rotta prima hai perso anche un piedino non so se l'avete visto però è dietro quello direi di mettere la rampa più no facciamo una roba mettiamo quella gica mi viene troppo da ridere non so perché ma mi viene da ridere e ora va veloce va veloce va veloce arriva e si sianta infatti poverino ha perso la testa ma scusa c'è la testa lì che rotola non so io andiamo avanti dai facciamo con la suriken che sarebbe questa moto che sembra una parola giapponese è giapponese quanto sono divertente oddio no che figo mi sa che si spaccherà un pochino le ossa decisamente proviamo con un'altra macchina proviamo con il camper cioè si il camper con il pulmino dell'inghilterra che se magari non ti ribalti ok passiamo avanti lo odio già la bandit oddio fa una brutta fine no si fa malissimo raga io l'ho detto ok ragazzi cambiamo livello andiamo in un altro livello e facciamo di original classic io l'avevo già modificato ah no ok no 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 niente no se raga 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 ho sbagliato livello scusate ok ragazzi era questo qua quello che avevo modificato guardate eh qua si fa malissimo perchè l'ho già testato qua davanti c'è il muro scusa no scusa ora gli è partita una gamba poverino vabbè senza parole prendiamo la shuriken lì come si chiama no veloci e aia zio hai perso le due gambe non so se per te può essere un problema no se vuoi te le ricompro cambiamo prendiamo sempre il pulmino perchè stai sculettando prendiamo la posizione facciamolo oddio no contro muro qua si ammazza sta qua quando ci scommettete che ora gli parte la testa aia la testa non gli è partita però mi sa che si è fatto malino ho questo dubbio oh vabbè ehm andiamo vediamo cosa che gli succederà qui vai avvivo vai oddio me che male fatto malissimo mi sono staccate le gambe un braccio vai quasi a tutta velocità iuuu oddio gli si è disassemblato tutto la testa la testa stessa parola poverino perchè questa violenza contro di lui proviamo a dire cosa qua qua sbatte la testa che è una roba si è rotto anche una gamba si cambiò la posizione non questa ok quella normale quella full speed raga più veloce di tutte evviva e si è anche massacrato sono senza senza parole ok ragazzi il video di oggi termina qua spero che vi sia piaciuto mi raccomando scelta il pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci rivediamo alla prossima bella raga ciao 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 ciao